Da un sindaco ad un aspirante sindaco Eh sì, abbiamo in studio con noi Patrizia Prestipino, buongiorno, bentornata Buongiorno a voi Dirigente del Partito Democratico, candidata alle primarie del centro-sinistra per il sindaco di Roma Primarie sulle quali ancora si discute, perché non si sa bene quanti saranno i candidati Quali neanche saranno i criteri per far parte di queste primarie Ogni giorno ci sono nuovi candidati possibili e regole Variabili Allora l'ultima è primaria aperte, primaria aperte con anche meno firme Beh voi vi ricorderete che sono venuta qui credo in autunno e già sottolineavo la necessità di aprirle Perché sembrava pazzesco, al di là di quello che poi è successo a Roma con Grillo Il movimento Grillo che ha un soffio dal Partito Democratico a Roma Ed ci ha superato in provincia di Roma La necessità di aprirle è una necessità come dire obiettiva, oggettiva Perché oggi Roma ha bisogno di una grande scelta popolare Di una grande mobilitazione dei cittadini Sulla base delle idee, dei programmi, ma anche della personalità del candidato Quindi era pazzesco l'idea di chiudere Adesso vediamo quale saranno le... Tanto io le mie firme le ho già depositate il 20 dicembre 4.000, 2.000... No no, io non ho depositato 6.000 Sì, erano 4.000 necessarie Sì, sì, comprensive delle firme dei tesserati Che per oggi mi sembrano davvero un elemento Che sono queste 2.600 se non erro Sì, sì, ma credo che stiano anche rivedendo quelle Io le ho criticate da subito Perché insomma mettere una soglia così alta Per poi per fare cosa? Per dire noi siamo del PD perché abbiamo 2.600 test Cioè essere del PD vuol dire Aver lavorato per il PD sui territori Essere un dirigente Essere stato un bravo amministratore Onesto e capace Per conto e nel conto del PD Cioè io credo che questo significa essere del PD E invece che significa fare delle primarie aperte? Uno dei nodi sono queste 4.000 firme necessarie? O c'è dell'altro? Beh, allora aperte vuol dire Intanto aperte ai candidati Però dove è giusto che ci sia una selezione Quando Miccoli dice Evitiamo i mucchi selvaggi Questo non ha torto Però la scrematura L'altro giorno ho fatto una battuta E mi piaciuta molto ai giornali Che siamo il latte della centrale Che ci vogliono scremare Ma sulla base di cosa fanno una selezione? Io per esempio avrei messo La data ultima della consegna delle firme Avevano detto il 20 dicembre Per correttezza sarebbe dovuto rimanere il 20 dicembre Poi chi c'è c'è Chi non c'è non c'è Adesso continuano a prorogare Ecco ma questa continua a prorogare Non è come se si cercasse Una sorta di coniglio Da frusciere dal cilindro? Sì Al di là della Ci si è messo A onore del veloce Ci si è messo anche di mezzo Tutto il tram tram delle regionali Quindi diciamo che Sì ma quello è giusto Abbiamo tutti lavorato per Per Nicola Zingaretti Abbiamo lavorato perché Il centro-sinistra E il PD Vincesse E quindi è chiaro che Siamo stati tutti distratti Tra virgolette Poi il giorno dopo Si sono riaccesi i riflettori Su Roma E probabilmente Andavano definite prima Cioè dovevano essere presentate Almeno le firme Prima del tantamme elettorale E poi dopo Si sarebbe anche discusso Della data Invece si è voluto prorogare È chiaro che adesso Chiunque può Tenta di infilarsi Si è voluto aspettare Anche questo risultato Scusa Marco Si è voluto aspettare Anche il risultato Delle elezioni Ma sì Perché poi le cose Si fanno sempre In chiave di lettura politica Quindi c'è sempre Il rischio Che ci sia Un certo Come dire Opportunismo politico Però secondo me È sbagliato Oggi tu devi mettere Devi dare il via A candidati Che siano Adesso più che mai Che siano candidati Avvincenti Convincenti Attrattivi Lasciatelo dire Anche dal punto di vista Della pilla elettorale Che non è un appeal fisico Ma è un appeal Dovuto a tante cose Al modo di essere Al modo di fare politica Al modo di interpretare L'esigenza dei cittadini Oggi Un bravo leader di partito Una brava direzione politica Quello dovrebbe fare Al di là del 4100 4200 figli E quindi per Sabino L'impressione Qui Lei ci deve dire Se qui È un'impressione sbagliata O meno È che veramente Si sia in attesa Di una sorta Di candidato forte Che sbaraglierebbe Tutti voi Ma chi è questo Candidato forte? Eh no Non lo so No perché Non voglio togliere Niente a nessuno Però mi continuano a dire Io scherzosamente Quando mi incontro Nei colleghi Mi dicono Guarda Pat L'aiuterei tanto volentieri Ma aspettiamo Il candidato vero Delle primarie È stato un disastro Per cui oggi Il candidato vero È quello che sa parlare Alla gente Che sta tra i cittadini Che abbia un minimo Di esperienza Ma scusi Chi è stato un disastro? Beh Tutto il centrosinistra Ah il centrosinistra Al di là di Che ha vinto bene Le regionali Il resto è stato Poi vogliamo Scherzosamente Dire abbiamo Non vinto Abbiamo non perso Siamo tutte le litote Del mondo È stato Devo dire Un esito Inaspettato È anche molto deludente Pensare di vincere Dieci punti sopra Di trovarci a fare Addruttore Il testa a testa Con Berlusconi È stato davvero deprimente E quindi? E quindi? Bastano Io quindi sono là Mentre Mi interessa poco Io sono in campo Del 27 giugno Se qualcuno mi dice Che c'è un candidato Torevolosissimo Faccio un passo indietro Ma qualcuno Mi deve anche spiegare Sulla base di cose Ma lei c'era La proposta Per far fare Il titolo della giornale Visto che Marchini Oggi si è tirato fuori Questa cosa Che mette a corviale Il sufficio da sindaco Io ieri ho tweetato A Marchini E mi ha risposto carinamente Gli ho detto Da una che ha fatto Come me La Presidente del Municipio Dal Laurentino 38 E ha avuto Invasioni di presidenza Sono finita sotto scorta Mi sono messa Contro la malavita locale Dei punti Del Laurentino Capisco E l'ho anche approvato Quindi Trovo una che lui Mi ha risposto Grazie mille Quindi Figuriamoci se io Che ho fatto Il Presidente del Municipio Dal Laurentino 38 Che è un po' Uno dei quartieri Più difficili Anche di maggior disagio Sociale di Roma Non capisca Non capisco queste cose Giusto Una bella idea Si può fare Ma lei che ne so Potrebbe rispondere Io vado a Piazza di Spagna In uno dei suoi appartamenti No Perché pensate Che io potevo prendermi La sede all'Eur Quando ero Presidente del Municipio Ho rifiutato Sto sui ponti del Laurentino Perché lì Fronteggi l'emergenza Stando tra i cittadini Che hanno più disagio Comunque non l'esortavo A commentare L'iniziativa di Marchini Quanto a metterne in campo No Un'altra Ancora non lo sa Dove avrai Comitato elettorale Diciamo Dove Il mio comitato elettorale Ma io non ho Questi mega comitati elettorali Non ce l'ho Per Perché Non ho tutti questi fondi Da spendere I miei comitati elettorali Sono i gazebbi Di tutta Roma Che partiranno sabato Io sarò in mezzo A tutta la città Nei punti Ne avrà il GEC di Roma Sarò a Tiburtino Sarò a Torbella Monaca Con Alessia Filippi A Volantinare Sarò a Viale Europa Sarò Alla Garbatella Sarò in tanti punti di Roma A dire adesso Pensiamo a Roma Pensiamoci con idee Proposte concrete Dove possiamo raccogliere Sia su una piazza virtuale Che sarà Sulla base dell'hashtag Adesso Roma Sia su una base concreta Perché ci saranno i miei ragazzi Ci sarò io Nei punti nevralgici La città A raccogliere le proposte Prendere di Roma Ma ecco il vero grande comitato È in mezzo alla gente Non è chiuso in un mega Palazzo del centro E così che nasce un programma anche? Così deve nascere un programma Che già sta online Da ottobre Sul mio sito PatriziaPrestino.com Ma che si allargerà E si integrerà Con proposte Dei cittadini Che vogliono dire la loro Su una nuova idea Città Perché Vi rubo il pay off Di una Roma città futura Ecco Sette Lei ci rubo il pay off Per una nuova città futura Ma Invece qualcosa Che possa portare i giovani A votare Partito Democratico A Roma? Beh Io la proposta L'ho fatta E l'ho buttata Anche sul tavolo Dell'Assemblea Allarghiamo le primarie Ai sedicenni Oggi Grillo Ci ha rubato Non so di quanti punti Percentuali Il voto Dei diciottenni E se vogliamo Riportare i nostri ragazzi A votare Partito Democratico Cominciamo dalle primarie Convongiamoli Apriamo ai sedicenni Come se l'ho già fatto Se vi ricordate Per le primarie Per Bertroni E anche Credo per Ambrosoli Quindi aprirsi Vuol dire anche Spalancare I giovanissimi I nostri giovanissimi A 16 anni Li coinvolgiamo A 18 c'è speranza Che votino Partito Democratico Ma facciamolo da subito Quindi Anche se non voto Alcuno mi ha detto Ma non votano Alle politiche Che vuol dire Intanto Li comincia a rendere Cittadini consapevoli E poi hanno sempre Un fratello Un amico Un'amica Che ha sicuramente Più di 18 anni Quindi Questa è un'idea concreta Ma abbiamo tante idee Sull'impresa giovanile Abbiamo tante idee Sull'associazionismo Sgiovanile Sulle proposte culturali Dei nostri ragazzi Per Roma Perché sono Un elemento vitale Ed è giusto Che vengano coinvolti Anche loro Nel progetto Di rivoluzione Di questa città Però Vanno fatti Vanno messi dentro I ragazzi Con atti veri Con credi Quindi facciamoli votare Da subito Alle primarie per Roma Sette Visto che è legato Poi anche A quella che sarà La performance Del centro-sinistra Alle comunali Bersani Fa bene in questo momento Ad insistere Sulle Suoi otto punti Per cambiare E quindi a Proporsi Come Presidente del Consiglio Guardate Qui è una Situazione drammatica Perché Io sono d'accordo Con Renzi Abbiamo sbagliato Il rigore Quando era il momento Giusto L'abbiamo sbagliato Adesso dobbiamo Rincorrere la palla Purtroppo E i punti messi Da Bersani Sono solamente Punti condivisibili Voglio vedere Chi non sia Per il lavoro Piuttosto che sul taglio Dei costi Ma qui il problema Il problema è che Grillo Rischia di dettarti L'agenda politica E se Grillo Lasceremo a lui Come dire La palla A dire Tagliamo il finanziamento Pubblico ai partiti Tagliate il finanziamento Pubblico ai giornali E voglio vedere Poi la vita di partito Viene praticamente Affossata E deve essere Ricostruita Quindi Vediamo cosa Risponderà il PD Oggi ha delle proposte Che sembrano demagogiche Ma sono proprio Quello che la gente vuole Quindi Insistere Su questa riduzione Della spesa pubblica Riduzione dei costi La politica E soprattutto Insistere Sul lavoro L'altro giorno Era allarmante La notizia Che quasi il 40% Dei giovani In Italia Disoccupato Con punte altissime Quasi del 50% Al sud Ecco queste sono Le risposte Che vogliono i cittadini Io temo Che con questa Geografia Politica In Parlamento Sia molto difficile Trovarli accordi Io la penso Come Renzi Non perché sono renziana Ma perché condivido Quelle idee Che non si può pensare Di fare un'alleanza Col PDL Perché altrimenti Grillo La prossima volta Arriverebbe al 60% Ma neanche con Grillo Perché noi non possiamo Inseguire quel tipo Di proposta Cioè noi siamo Un'altra roba Siamo una politica Più costruita Più riflessiva E anche spero Più attenta A tante esigenze La politica È una cosa seria Va affrontata Con serietà E consapevolezza Io spero che Questi nuovi deputati E parlamentari Del Movimento 5 Stelle Che sono entrati Appunto in Parlamento Sappiano davvero Interpretare Esigenze ai cittadini Perché è con serietà E condivisione Ma è peggio Vedere Dilatare Questo tempo Di attesa Sulla risoluzione Della crisi politica O cercare di fare Qualcosa Di brevissimo respiro Che magari permetta Di andare subito A votare Lo dico sempre Perché Non perché la vogliamo Spingere a parlare Di temi nazionali Ma perché Sull'esito 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 Delle vicende Del governo nazionale Peserà poi Il risultato elettorale Delle comunali Del comune di Roma Sì Sì Ma il rischio Che si arrivi Al ballottaggio Ormai È una certezza Numerica Perché con Il Movimento 5 Stelle Al 25% Nessuno Arriverebbe Al 50% Per quanto forte Per quanto Il candidato Che uscisse Dal cilindro Però è chiaro Che adesso È importantissimo Come si muova La politica nazionale Io Per come La vedo oggi Se non si vuole Subire una sorta Di diktat Demagogico Si deve andare Alle urne Si deve tornare Alle urne Prestissimo Se non si trova Un accordo Se si mette D'accordo Tutti e tre Almeno Sulla riforma Legge Una cosa buona E giusta Ma su nient'altro E se non ci si mette D'accordo Almeno su quello C'è chi dice Che comunque Sarebbe inutile Tornare al voto Con questa legge Nel senso che Ci si potrebbe ritrovare In una situazione E così ci suicidiamo Per la terza volta Io Io in questo Sono stata molto critica Al mio partito Il PD Poteva fare di più Per cancellare il Porcello Poteva farlo E doveva farlo Ci si è trovati Con questa legge elettorale Abbiamo fatto le primarie Che sicuramente Hanno smussato Certe Intemperanze Certe incoerenze Del Porcello Però Non sono state sufficienti Si è visto Insomma Noi abbiamo candidato Rosi Bindi Ha vinto le primarie Era capolista In Calabria In Calabria Abbiamo visto come è andata Non perché sia colpa Di Rosi Bindi Ma forse non è stata Una capolista Che ha convinto I calabresi A votare PD Come idem E per la fine Non chiaro altri Facciamo le primarie Ma facciamole Vere Oppure cambiamo La legge elettorale Mi pare insomma Abbia fatto il suo tempo Che si debba esaurire Con la seconda repubblica Senta C'è Zingaretti Che dice No a doppio incarico Consigliere assessore E candidato sindaco E candidato sindaco O sindaco E parlamentare Allora Io Quando Renzi Mi ha chiamata Il 20 dicembre Dicendomi di correre Per le parlamentari A Roma Ho detto di no Non perché fossi pazza Ma perché volevo Continuare correntemente La sfida Per il Campidoglio Avevo depositato Le mie firme Ho rinunciato Ho visto che altri Miei colleghi Competitor Prima si sono assicurati Il posto in Parlamento E poi oggi vogliono Fare la battaglia elettorale Visto che le decerenziani Anche Gentiloni Eh lo so Io non faccio nomi Ma tanto Si sa da soli Chi sono Ma anche Ignazio Marino Se le volesse fare Comunque era candidato Su un bel due regioni Mi pare Evidentemente Loro per volare Hanno bisogno Del caracaduto Io sono un po' Più incosciente Mi sono buttata In questa avventura Ma dunque Il paracaduto Non serve per volare Il paracaduto Serve per atterrare In maniera morbida Anche per volare Perché se no precipiti Io spero di non precipitare Spero di avere la rete Dei miei cittadini Che mi hanno sostenuto E che non mi facciano Stracellare al suolo Anzi Diciamo che è un'avventura Più bella Quando sei coerente Con i tuoi principi Ormai io sono sul pezzo Da otto mesi Vado avanti Come un caterpillar E Altri hanno voluto Il paracaduto E se ne assumono Le proprie responsabilità Magari va meglio a loro Magari questa è una società In cui viene premiato Chi Chi non affronta Di petto le cose Ma per chi si siede Comodamente su una poltrona E poi c'è anche Quest'altra cosa Che sta andando avanti Ne parlavamo prima Questa mattina Di questi curriculum Per fare l'assessore Che hanno colpito Anche Zingaretti Visto che anche lui Ha fatto questa Sì ho detto Mandate i vostri curricula Tra l'altro Anche in riferimento Proprio al Movimento A un tentativo Di dialogo Giustamente Con il Movimento Cinque Stelle Anche sul fronte regionale Ah beh ma i curricula Di Cinque Stelle Hanno dimostrato Che ci sono laure vere Rispetto ai nostri politici Non lo so Guardate Sai io sono La mia laurea Me la sono presa anni fa Faccio l'insegnante di lettere C'è anche tanta Brava gente Capace Consapevole E veramente laureata Anche nella politica Cosiddetta tradizionale Che invece si consume In mezzo alla gente Non lo so Vediamo come finisce Questa storia Dell'assessorato In regione Io non so se Nicola aprirà I Cinque Stelle Non ho capito Non mi pare Insomma Da quale sia Si potrebbe fare Il modello crocetta In crocetta In Sicilia I Cinque Stelle Man mano Decidono Su quale proposta Intelligente E anche condivisibile Quale proposta Appoggiare Adesso Non so Sì che poi Quello che ha lasciato Intendere Anche tutto sommato Anche lo stesso Bersani Quando parlava Di impegni Di rimenti E cadenzabili Dove però La questione numerica Chiaramente Il Parlamento È ben diversa Certo Lì in Consiglio regionale Ci sono tutti i numeri Per governare Ma noi abbiamo Dei dati di rimenti Quando arriverà La Notav Scusate L'alta velocità Quando arriveranno Gli interventi militari No ma qui il problema È proprio Quando arriveranno Le grandi sfide Con questi numeri In Parlamento E queste sono È proprio il primo Aspetto Cioè le più piccole Immaginate Quando arrivano I grandi temi Etici Grandi temi Internazionali Grandi temi Di economia E finanza Come ci mettiamo D'accordo Perché Io Tante cose di Grillo Le trovo condivisibili D'altro Le trovo folle L'idea di pensare Di uscire Dall'euro Mi sembra una roba Inaccettabile Che ci facciamo Dettare su questo piano Ci facciamo Dettare la linea Grillo Ragazzi Poi altre cose Vedremo Ad oggi Quel programma Di Grillo È condivisibile Ma alcune cose Il reddito Di cittadinanza L'hanno dimostrato Non Patrizia Pressivino Ma illustri economisti Che alla fine dei giochi Sarebbe 4 euro al mese Per ogni Disoccupato E di che parliamo Cioè Uscire dall'euro Sarebbe una cosa Che ci potrebbe C'è manca un po' Di confusione Su questo argomento Il debito pubblico Con quel reddito Di cittadinanza Aumenterebbe Di miliardi di euro E poi sarebbe impossibile Da sanare Poi non lo so Basta anche un minimo Di studio economico Su questo Altre cose Sono assolutamente Condivisibili Tante questioni Che rivestono I temi politici nazionali Così come quelli Delle amministrative Noi di amministrative Abbiamo parlato Soprattutto con Patrizia Pressivino Candidata a sindaco Per il centro-sinistra Che ringraziamo Che ringraziamo Per essere con noi Edio